Ha fatto tappa anche a Chieti il tour motivazionale di Luca Bete, non ci ferma nessuno. L'inviato di striscia alla notizia è arrivato al campus universitario della D'Annunzio. Tanti gli studenti e i docenti a caccia di selfie. Quindi Luca ha tenuto un incontro all'interno dell'aula magna della facoltà di lettere, dove ha tenuto una lezione sulla serendipità. La serendipità è il tema di questa ottava edizione, alla scoperta della serendipità. Che cos'è? Lo sapevo che me l'avresti chiesto, perché non studi mai, però sono buono oggi, non ti metto un brutto voto. La serendipità è l'occasione che nasce inaspettatamente, quegli imprevisti che sembrano la fine del mondo, ma che se poi li guardi bene, con un'ottica giusta, possono rappresentare veramente un percorso nuovo che può aprire le porte veramente al sogno. Io credo che la serendipità sia nella vita di ognuno di noi. Ognuno di noi ha degli episodi, dei bivi davanti ai quali ci si è fermati, pensavamo di non potercela fare, poi alla fine siamo ripartiti e abbiamo ottenuto qualcosa di meraviglioso. Questo per me è il messaggio da trasferire ai ragazzi. Gli imprevisti esistono, sfruttiamoli bene. Come si riconosce però la strada giusta, Luca? La strada giusta devi sentire dentro quello che è giusto fare. Dico molto spesso ai ragazzi che non esiste un manuale, esiste uno stile di vita, uno stile di vita curioso alla ricerca delle esperienze, facendo le cose per bene, sperimentandoci sempre, possiamo veramente avere poi quella modalità curiosa che ci porterà ad esplorare le mille opportunità che il mondo ci offre. Una cosa bella è che oggi siamo in presenza e questa mi sembra che sia una cosa molto importante. Questa è la cosa più bella. Oggi è l'ottava tappa, ne abbiamo fatte sette in streaming. Il rettore, col quale abbiamo un rapporto veramente meraviglioso, ci teneva particolarmente. Abbiamo fatto di tutto per accontentarlo e oggi gli diciamo grazie perché ci ha portato di nuovo in aula con tanti ragazzi e la voglia ancora di riprendere un po' quel cammino, che non è facile, dobbiamo dirlo, però vogliamo ripartire proprio da qui. Oggi si riparte da Chieti, da questa università, per urlare non ci ferma nessuno, dal vivo. L'ultimissima. Anche se sei vestito in maniera diversa ci puoi salutare come al solito. Voglio salutare tutto il popolo di Redeotto. Un saluto da Luca. A me, ciao, bravo. Infine nel corso dell'incontro è stato consegnato il premio Non ci ferma nessuno a Pasquale Castronuova, sociologo forense che con la propria esperienza rappresenta un esempio di coraggio e resilienza. Chiusura con il rettore Sergio Caputi. Devo dire, lui è un grandissimo motivatore. I ragazzi, soprattutto dopo il periodo del Covid, hanno bisogno di motivazione, hanno bisogno di uno stimolo in più e di un impulso in più. Luca è molto bravo a fare questo, quindi sicuramente ne trarranno giovamento.